Rosalinda Cannavo e Andrea Zenga. La nascita di Camilla e un nuovo capitolo d'amore. Nella loro accogliente casa di Milano, Rosalinda Cannavo e Andrea Zenga, entrambi trentuneni, si mostrano felici e innamorati accanto alla loro piccola Camilla, nata il 7 settembre. La gioia è palpabile, mentre Rosalinda racconta con affetto di come la sua vita sia cambiata da quando è diventata madre, sono estremamente gelosa e voglio che sia solo mia, confessa, e Andrea aggiunge divertito. Quando si addormenta con me, inizia a rosicare. La coppia rivela che la voglia di costruire una famiglia è emersa in un viaggio negli Stati Uniti, un momento che ha rafforzato il loro legame abbiamo visto l'altro sotto una luce diversa, ricorda Andrea, mentre Rosalinda sottolinea l'importanza di quell'esperienza condivisa. La gravidanza, però, non è stata preva di sfide. Rosalinda ha affrontato momenti di ansia e preoccupazione, temendo per la salute della bambina all'inizio non è stato facile, ammette, ma grazie alla sua determinazione e al supporto di Andrea è riuscita a trovare un equilibrio. Con il suo arrivo Camilla ha portato una ventata di freschezza e amore in casa Zenga, trasformando ogni giorno in un'avventura straordinaria.